ecco bucaioli andava a vedere come un cialtrone un americano sciupa la bistecca alla fiorentina innanzitutto con queste mani verci con questi unghielli merito ma belle fatto passare la voglia e mangiare si dirige che se faccia bischi questi paletto golaio sono ammessa a friggere da fatti soffritto il ramerino e si dell'altro un gila un te bisunta questo gli è l'olio della panda diesel e 15 40 balai trogolaio si ecco ecco i conti importanti condimenti a parte vedi pataia e peperoni è classico la bistecca tutti le pataia e peperoni sempre sanno una sega a firenze che si fa a mangiare la bistecca ecco che ci butta la chiesta che gli è l'acqua di pozzo nero l'acqua corrente dell'ombroni che gli è questo trogolaio si dico questa faccina a culo si gli fatto aver fatto un bel lavoro è sì ma gli è soddisfatto ma mangia neanche queste mani verci di vola tutta neviti ora la poggiungi tutti i modi fa un trovare di a tutti i brodoni piatto ok già faccio resta che fa buona il fegato quando uno c'è il fegato un pochino gli sta male si fa questa bistecca almeno gli finisce di gonfiare perché non è il gonfiare di rigo il rigonfiare a vita bravo si